Nuovo appuntamento con Tra le righe, questa settimana parliamo di un libro davvero speciale che si intitola Oltre il Covid, 365 idee per superare la crisi, erga Edizioni, la sua curatrice, autrice è Paola Scarsi, giornalista, scrittrice per impegno per tanti anni in diversi uffici stampa, infatti ci siamo conosciute proprio grazie ai diversi comunicati stampa che puntualmente mi ha inviato. Ciao Paola, benvenuta. Buongiorno a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, parliamo di questo libro con 365 idee appunto per superare la crisi, un volume in cui racconti e raggruppi per macroare tutto quello che una parte degli imprenditori ha fatto in questo periodo di crisi, si è rimesso in gioco, si è rivalutato, ha trovato soluzioni. Ecco, posso chiederti com'è nata l'idea di raggruppare tutte queste soluzioni, tutte queste storie possibili, mi verrebbe da dire. Allora, l'idea è nata un po' per caso e un po' per mia curiosità. Durante la quarantena, quando non si poteva fare altro stando in casa che leggere oppure navigare in rete, io leggevo tantissime ipotesi, tanti scenari, tante indicazioni su un futuro che sarebbe stato, che però non era assolutamente certo. Dall'altra parte leggevo invece piccole soluzioni messe in campo da imprese anche minuscole per appunto contrastare la crisi, ma soprattutto in quella fase per essere vicini ai propri clienti, alle maestranze. Quindi ho cominciato a leggere con curiosità e poi a raccoglierle, perché si passava dai bar che portavano gli aperitivi sotto vuoto, ai parrucchieri che mandavano via WhatsApp le lezioni per come tagliare i capelli ai bambini. Insomma, piccole soluzioni per comunque far sentire la presenza a chi era costretto in casa dalla quarantena. Ecco, come dicevo prima, il libro è diviso in macro categorie, si spazia dall'agricoltura al commercio, la cultura, il tempo libero, l'innovazione, la religione e le mascherine. Poi alla fine del libro c'è un elenco delle varie aziende che tu citi. Non ti chiederò di segnalarci una storia, un'azienda, perché sono tutte 365 interessanti, anzi sono 364. Perché ti chiedo? Perché ho voluto che questo libro fosse anche uno stimolo per chi lo leggeva. Cioè, come scrivo e come mi hanno detto, io riporto delle frasi che mi hanno detto, a volte la soluzione può essere dietro l'angolo, basta guardare le cose da una prospettiva diversa. Certo, tante persone so benissimo che sono disperate e che la soluzione proprio non la intravedono, ma altri possono forse vederla e il mio libro vuole essere appunto un piccolo aiuto. Per questo che auspico che la 365esima soluzione d'impresa sia quella di chi legge il mio libro. Per questo, a conclusione di ogni macrocategoria, hai lasciato una pagina bianca con su scritto note. Quindi, come dire, può essere un modo per appuntare una riflessione, uno spunto che nasce dalle tante idee che hai raccolto in questo libro? Sì, questa devo dire è una idea che ha avuto il mio editore, che ringrazio Marco Merli di Ergac, la casa editrice di Genova, la città di cui io sono originaria. Perché ha voluto lui inserire questi spazi. In effetti, tante volte leggendo, uno vorrebbe prendere una nota, non sa dove farlo, non vuole rovinare il libro su la margine e uno spazio per le note può essere davvero utile. Posso chiederti come è avvenuta la ricerca? È avvenuta sicuramente appunto nel periodo in cui eravamo chiusi in casa, nel periodo di chiusura, ma hai contattato personalmente tutte le varie aziende di cui hai raccontato la storia, hai fatto una ricerca su internet, c'è stato il passaparola magari per sentito dire dall'amico o dal vicino di casa? No, è stata soprattutto in larga parte una ricerca in rete. Come ho fatto? Quando abbiamo deciso insieme di rendere quella mia piccola raccolta un libro, ho iniziato a fare una ricerca, devo dire, certosina. E come facevo? Mettevo delle parole chiave, poteva essere quarantena, bar, aperitivo, ristorante, insomma che potevano innovazione e cercavo le notizie. Poi le andavo a verificare perché se una notizia è scritta da 25 testate ha abbastanza probabilità di essere vera, se è scritta da una e nessun altro la riporta ho qualche dubbio. In ogni caso andavo poi a verificare perché la notizia comunque riportava un nome, un cognome, un'azienda. Allora a quel punto andavo a cercare l'azienda, ovvio che se si trattava di un'innovazione, faccio un esempio, i tappetini igienizzanti e vedevo che nell'azienda erano inseriti come prodotti in vendita con una gamma eccetera eccetera, ovvio che quella era una notizia vera. Altre invece si sono poi rivelate dei buchi nell'acqua, per esempio una particolare mascherina di cui non ricordo bene le caratteristiche, comunque l'ho cercata più volte in rete perché per due o tre giorni esplosa su tutti i giornali questa notizia di questa particolarissima mascherina. Io non sono mai riuscita a trovare il produttore, l'inventore eccetera eccetera, alla fine l'ho lasciato perdere perché era una notizia così buttata là e ripresa da qualcuno però le ho tutte verificate quelle e tra l'altro il fatto di verificarle mi ha permesso di parlare con questi imprenditori ed è stato un viaggio molto bello nell'Italia. Ecco quindi hai avuto modo di parlare direttamente con questi imprenditori, magari con alcuni di loro che cosa è emerso, che cosa ti ha colpito delle loro storie, delle parole, di quello che magari ti hanno detto o scritto a proposito di ciò che stavano facendo in quel particolare momento storico? Guarda, la maggior parte di loro era colpita dal dramma improvviso, cioè era tutto successo in pochissimi giorni e quindi la prima cosa che io ho sentito è stata la solidarietà, il dover fare per gli altri. Chiunque voleva fare qualcosa, voleva o ha voluto fare qualcosa, si è voluto mettere a disposizione, non ha guardato se stava dando fondo al magazzino, se stava lavorando giorno e notte, però doveva dare una mano alla comunità donando, regalando, aiutando i medici, i volontari, gli operatori sanitari. Questo è stato il primo sentimento che io ho sentito molto generalizzato. Il secondo è stato quello del voler tutelare i dipendenti. Io ho sentito un fortissimo senso di responsabilità nei confronti dei dipendenti delle maestranze, il non volerli abbandonare, il volerli aiutare a comunque conservare il lavoro perché mi dicevano non li posso lasciare, conosco le loro famiglie, so chi sono, non li posso lasciare in mezzo a una strada. Il terzo sentimento è stato quello del voler salvare l'azienda. Salvare l'azienda anche qui con un senso di responsabilità nei confronti degli altri, cioè lo devo ai miei genitori, lo devo ai miei nonni, lo devo ai miei figli. Questa non vorrei minimizzare la gravità della situazione, la gravità della situazione in cui si trovano tantissime che invece purtroppo sono falliti e non ce l'hanno fatta. Però questi sono i sentimenti che io ho ascoltato davvero sentendo le persone. Tante non mi hanno nascosto di aver passato dei momenti di disperazione, soprattutto quando era tutto nero, quando era tutto chiuso, non si poteva uscire, non si poteva vendere, non si poteva fare niente. Però tanti di loro hanno trovato soluzioni, faccio qualche piccolo esempio. Chi aveva gli animali e vendeva il latte, piuttosto che il formaggio, le uova, il miele, si è inventato le adozioni. Adotta una mucca, adotta un'asino, adotta un'arnia, adotta anche una gallina. Cosa ha permesso questo? Di avere la liquidità necessaria per pagare i fornitori e nello stesso tempo fare dei pagherover, ossia ai donatori, agli adottanti, da promettere che gli avrebbero fornito formaggio piuttosto che miele quando fosse finita la pandemia. Ecco, è stata anche questa una piccola soluzione. Un'altra soluzione, c'è stato l'agriturismo che ha creato un ristorante su un albero. Mi hanno detto che era un loro sogno da tanto tempo. È un ristorante, è un tavolo, è per sei persone. Comunque è un modo per distanziare, per poter pranzare, anche quando era molto difficile farlo in un ristorante. Certo, quindi come dire, hai potuto magari riscoprire e avere conferma di come davvero gli italiani sappiano rimboccarsi le mani, che è un po' del genio italico, no? Penso che questo... Sì, questo sì, ripeto, non voglio minimizzare una situazione che per moltissimi era e rimane grave. Però, siccome me l'hanno ripetuto più persone, posso anche dire che certe volte la soluzione può essere dietro l'angolo e che qualche volta la crisi può essere utile invece per sviluppare degli altri settori. Come ho detto, i tappetini igienizzanti, piuttosto che i gel, sono prodotti venduti da moltissime aziende adesso che senza la pandemia non ci sarebbero mai stati, così come le mascherine. Tantissimi stanno cucendo mascherine e senza la pandemia non l'avrebbero mai fatto. Certo, è un libro, come ha scritto qualcuno, leggevo sul web, è un libro che ti solleva, che ti fa intravedere la luce in fondo al tunnel. E c'è anche poi un paio di storie di sacerdoti che si sono rimboccati le maniche a servizio dei loro fedeli, hanno messo davvero la creatività al servizio della Chiesa. Lascio, come dire, ai nostri telespettatori un po' di voglia di leggere questo libro, di assegnarsi le storie, di andare a conoscere di più di quello che gli italiani si sono inventati in questo periodo. Oltre il Covid, 365 ed è per superare la crisi, erga edizioni. Grazie Paola, alla prossima occasione.